Siamo in compagnia di Marcus Brown per commentare, per partire dal commento dell'ultima gara, quella contro il Lucera. Una Dioptical Virtus Basket Molfetta che comunque non ha ben giocato i primi due quarti, invece è migliorata nei secondi due. Quello che appunto mi sento di chiedere a Marcus Brown che cosa non è andato nei primi due quarti e che cosa invece si trae di positivo dai secondi due quarti. Sì, mi sento che non abbiamo finito il gioco in modo che vogliamo. Abbiamo scoperto due punti con un minuto e non abbiamo finito in modo che vogliamo. Sì, mi sento che è buono che abbiamo competito fino all'inizio. Non abbiamo finito in modo che possiamo sicuramente imparare da questa perdita. Ecco, la Dioptical Virtus Basket Molfetta esce sconfitta da Lucera ma bisogna immediatamente ripartire. L'occasione è quella di sabato prossimo qui al Palapoli contro la Libertas Altamura. Dunque, ritornare a vincere, farlo contro Altamura, una partita da non prendere sicuramente sotto gamba. Sì, mi credo che bisogna mantenere i nostri spiriti. Abbiamo tre gioco in gioco fino ai play-offs. Bisogna approcci ogni gioco, un gioco a un tempo, vincere questi ultimi tre gioco, venire più vicino come gruppo e preparare i play-offs. Grazie a Marcus Brown. Dunque, Dioptical Virtus Basket Molfetta, Libertas BK Altamura qui al Palapoli sabato 25 febbraio, ore 19. Grazie a tutti.